sciogliere le camere e tornare al voto è questa l'unica richiesta del centrodestra al presidente sergio mattarella la delegazione guidata da matteo salvini per la lega giorgia meloni in stampelle per fratelli d'italia e antonio taiani per forza italia in rappresentanza di silvio berlusconi sono saliti al colle nell'ultimo giorno di consultazioni e dopo il confronto è stato salvini fogli di appunti in mano a fare un brevissimo punto davanti ai giornalisti il centrodestra e maggioranza nel paese governa 14 regioni su 20 ha premesso l'ex vice premier abbiamo espresso preoccupazione per la situazione sanitaria economica e sociale aggravata da un governo incapace nato da un accordo di palazzo questa crisi sottolinea salvini è stata causata da litigi vanità e interessi personali auspichiamo una soluzione rapida e incisiva la posizione del centrodestra che salvini ha sottolineato essere stata condivisa da tutti i suoi esponenti è quella di chiedere lo scioglimento delle camere il ricorso alle elezioni per offrire agli italiani la possibilità di un governo coeso con un programma comune condiviso dagli elettori e una maggioranza forte in grado di affrontare i gravi problemi della nazione abbiamo altresì confermato piena disponibilità prosegue salvini a collaborare a provvedimenti necessari al paese dal recovery plena la campagna per i vaccini dai ristori ai rimborsi per famiglie e imprese diciamo no alla riedizione della stessa maggioranza che tiene in ostaggio il paese da settimane peraltro ancora più debole perché garantita da singoli volta gabbana rimettendosi con fiducia alle decisioni del presidente lega fratelli d'italia e forza italia escono da queste consultazioni dando l'impressione di essere l'area politica più compatta di tutto il parlamento e non è poco grazie a tutti grazie a tutti